Si chiama Formez e da 50 anni aiuta la pubblica amministrazione nella formazione dei dipendenti. Non solo, negli ultimi anni il suo raggio di azione si è allargato e l'aiuto si è steso ai cittadini che hanno a che fare con gli uffici pubblici, in particolare con il servizio Linea Amica che a breve festeggerà i 4 anni di vita. Proprio per svolgere questo ruolo di assistenza da un lato e di ascolto di quali sono le vere priorità che i cittadini vogliono, come vorrebbero i servizi dalle amministrazioni, che tipo di amministrazione vorrebbero. Per far questo è stata avviata Linea Amica. Linea Amica è un programma che assiste i cittadini su qualunque tipo di problema abbiano con l'amministrazione pubblica chiamando telefonicamente Linea Amica al suo numero oppure mandando delle mail, chattandole avrà una persona, un esperto al suo fianco per risolvere qualunque problema con l'amministrazione pubblica fino alla soluzione del problema. Questo ha fatto sì che centinaia di migliaia di casi di pratiche che ritardavano, che non erano risolte nei tempi giusti sono state assistite, devo dire con grande soddisfazione da parte dei cittadini. Interessante anche il sondaggio sui numeri verdi. Sono molto poco conosciuti i numeri verdi, sono più di 1.100 in Italia, servizi che le amministrazioni mettono a disposizione dei cittadini. Tante volte non si conoscono, ad esempio l'Inpsa ha tantissimi servizi che si possono fare online, si può scrivere un abbadante online, ma ci sono dei call center che ti assistono per chi non ha la capacità di utilizzare il computer nel modo corretto e chiaramente il Lazio in primis e la Lombardia sono le regioni dove ne esistono di più. C'è poi il monitoraggio delle auto blu, argomento piuttosto sentito dai cittadini, soprattutto in questo periodo. Noi da tre anni monitoriamo e c'è un sito in cui tutti i cittadini possono collegarsi e vedere per ogni amministrazione, tagga per tagga, quante autovetture blu sono usate e come sono usate.